Il 12 di aprile, ai sensi della normativa che presiede all'amministrazione straordinaria, è fissato un'udienza nella quale il giudice dovrà valutare se ci sono o non ci sono i presupposti per la vendita o se, preso atto della dichiarazione di insolvenza che è ormai del 3 novembre del 2015, si debba dichiarare il fallimento dell'azienda. Un altro mese di stop per la Cantarelli che ancora non ha trovato un acquirente. In amministrazione controllata da oltre due anni, l'azienda Tessile, che ora ha sede solo a Terontola, sarà oggetto di un nuovo bando da parte del Ministero. L'offerta della Men's Fashion Group di Pacenti non è stata considerata congrua. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di utilizzare tutto il tempo a disposizione fino all'udienza fissata dal giudice fallimentare del Tribunale di Arezzo, cioè fino al 12 aprile, per da un lato approfondire ulteriormente l'istruttoria in relazione all'unica offerta pervenuta e valutabile. D'altro canto ha ritenuto opportuno ritornare sul mercato con un altro bando brevissimo per verificare all'ultimo tuffo l'esistenza di eventuali altre offerte. Complessivamente parliamo di 240 persone, delle quali 140-150 al lavoro e gli altri in cassa integrazione straordinaria. C'è sempre stata la speranza che questa azienda, le capacità di queste lavoratrici potessero essere utilmente collocate sul mercato e io anche altre volte ho espresso una specifica amarezza in ordine al fatto che nessun imprenditore del nostro territorio allo Stato ha ritenuto che ci fossero le condizioni per poter partecipare alla gara e poter rilevare l'azienda. Grazie. Grazie.